Buongiorno, oggi volevo fare un piccolo video vlog, infatti mi sono appena alzato dal mio letto Oh madonna che sonno, e allora adesso vi faccio vedere cosa faccio in una giornata e come prima cosa apro le finestre Wow che giornatina, e neve sulle ali Guardate che spettacolo Apriamo la finestra, così cambiamo l'aria, e adesso vado in bagno, mi lavo la faccia e faccio ciò che devo fare Bene, ho dato una sistemata al bagno, intanto che ho aspettato che venisse l'acqua calda per lavarmi la faccia Per essere belli i svegli attivi, adesso spegniamo la luce, e intanto che ho aspettato sempre che venisse l'acqua calda Ho disfatto il letto per far entrare un po' di aria sana Ora, ci siamo al letto di mia madre, Adem e Madri, e apriamo gli scuri, almeno facciamo entrare un po' di aria Ah io potrò la cosiddetta, bisogna andare a prendere le chiavi perchè mi ha chiuso dentro Chiavi prese Hola, adesso c'è un po' di illuminazione C'è un po' di velatura sul cielo ma secondo me nel pomeriggio si fa fuori Infatti voglio andare in bici oggi a partire il pomeriggio Vabbè, e comunque adesso disciamo il letto e dopo facciamo una bella amulazione Questo è ciò che faccio tutte le macchine, di fare il letto, aprire la camera, alzami, lavarmi la faccia, eccetera Adesso sistemo la poltrona al suo posto, do una sistemata a sto casino che c'è qui E dopo forse posso fare la colazione Bene, adesso che ho finito di sistemare, che c'è un po' di Ordine, come vedete Possiamo fare colazione Che cosa mangio stamattina? Cappuccino e queste brioche che mia mamma ha cotto stamattina E dopo, boh, intanto facciamo colazione, va Questa è la mia colazione che faccio quasi tutte le mattine Quando sono ovviamente da mia mamma Un bicchierino di acqua, il cappuccino e la briochina Colazione fatta E adesso sistemo il capriletto della camera E dopo vedremo cosa fare Anzi, sarà anche meglio che mi cambia la sto pisano Mi sono cambiato Ho steso la lavatrice che aveva fatto mia mamma E giustamente l'ho messa in mezzo al piazzale Come è il mio solito fare Dopo mi sono depilato le gambe Perché adesso vado in bici Mi preparo i panini con la nutella E parto Ciao Bene, mi sono cambiato E adesso andiamo a farci un bel giro in bici Un bel lungo Quindi se riesco vi metto qualche foto del giro che ho fatto E ci vediamo dopo il giro Ciao ciao Eh sì, pensavate voi che io in questa giornata Non facessi un video vlog, eh E invece l'ho fatta In questo video vedremo Oltre alla mia giornata routine, diciamo Vedete anche il giro che faccio oggi Oltre alla mia giornata Qui siamo a San Lorenzo In uno dei paesi nei borghi più belli d'Italia Con la neve Le montagne Cambio dei colori Della stagione autunnale Proprio uno spettacolo Guardate che panorama C'ero bellissimo Qualche nuvoletta qua e là Però eccezionale Giornata non troppo fredda E adesso andiamo in direzione di Molveno Bene Appena arrivato a casa Dopo un giretto 100 km Scarse Giornottina frescolina Però dai Un bel giretto anche oggi ce lo siamo fatti Giusto per tenere un attimo la gamba Per non perderla E dopo Durante la stagione invernale Vedremo cosa riesco a fare Almeno che non prendo i rulli Che sarebbe un'idea eccezionale Però adesso deciderò Con calma Intanto Finché fa belle giornate Ne approfitto Per andare su strada Adesso Mi cambio Doccia E faccio La mia solita merenda Biscotti E te caldo Bene Adesso vado a cena Intanto stavo Iniziando a montare il video Quello che state vedendo ora Ci sono diverse clip Purtroppo È da un po' di giorni Che ci sono dietro Che lo faccio E niente Adesso parto da Molveno E vado A che vedo a guacina E dopo Mi guarderò la tv Comunque vi farò sapere Bene Ce ne abbiamo mangiata Adesso sto guardando La tv Si e sai E niente E dopo Mi guarderò ancora Che vale Se dopo andrò a dormire Spero che questa giornata Tipo Vi sia piaciuta Se è così Fatemelo sapere Con un bel pollice in su Che mi renderebbe Veramente felice Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Attivate la campanellina Per ricevere le notifiche E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao ciao